Tu avvertili, devi dirlo a tutti, chiunque arriverà, chiunque sia, io lo ammazzerò, ammazzerò tutti. Non so cosa dirvi davvero, ora noi o risorgiamo o cederemo, un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei, credetemi, e possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Il contratto è stato rotto, ora giocheranno con le mie regole, vedranno cosa un pedone può fare a un re, a voi serve uno come me. E non c'è nessun altro come me. Non siamo arrivati a questo livello per crollare e farci battere proprio adesso. Io sono un vincente. E ho intenzione di vincere. Che ti è successo? Ora sembri un'altra persona. Ma tu, tu cosa vuoi saperne di come sono io? Che tipo di persona ti aspettavi che fossi esattamente? Quello che viene a implorare è la tua carità. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incasti. E se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte. Perché un uomo che non c'è solo se sa resistere. Non se ne vai in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quel lato di quanto fatto. I miliardi fanno così. E tu non lo sei! Non lo sei affatto! E tu non lo sei!